Una stanza tutta per sé, uno spazio dedicato a sostenere le donne nel delicato momento della denuncia di violenza, destinato all'accoglienza e all'ascolto. È infatti grazie alla collaborazione avviata nel 2015 tra Arma dei Carabinieri e Sor Optimist International d'Italia, che si è poi rafforzata con il protocollo d'intesa siglato a novembre 2019, che sono sempre più le caserme dei Carabinieri dotate di una stanza tutta per sé. Due le strutture realizzate nel pieno dell'operatività in provincia di Arezzo, una nel capoluogo inaugurata nel 2017 nella sede del Comando Provinciale e l'altra invece presso la Compagnia Carabinieri di Bibbiena. Un'iniziativa che viene ricordata proprio oggi, il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne ed è proprio in questa occasione che anche la sede del Comando Provinciale si colorerà dal tramonto simbolicamente di arancione, in adesione alla campagna Orange the World, color scelto come simbolo di un futuro senza violenze di genere.